E i riflettori sono accesi in particolare sul Senato dove nasce il gruppo degli europeisti di sostegno a Conte. Italia Viva intanto ribadisce da noi no veti sui nomi. Andrea Bovio. Ci sono voluti parecchi giorni di lavoro ma alla fine il nuovo gruppo in Senato a sostegno di Conte c'è. Europeisti, il nome, mai è Centro Democratico, il simbolo. Al momento ne fanno parte in dieci dentro Causine e Maria Rosaria Rossi, i due senatori che vengono da Forza Italia, resta fuori Sandra Leonardo Mastella per una lite sul simbolo. Non chiamateci i responsabili, dicono i protagonisti, abbiamo una chiara connotazione politica. Parteciperete alle consultazioni del Quirinale? Domani parteciperemo al Quirinale, ci sarò io, insieme al senatore Causine. Vi aspettate altri ingressi a breve? Aspettiamo altri ingressi a breve perché in privato parliamo con tanti parlamentari che vorrebbero venire a lavorare in un progetto politico che abbia come punto di riferimento il Premier Conte. e si riparte anche con la possibilità di creare in Parlamento un forte sostegno a questo legame fortissimo che l'Italia deve avere con l'Europa. Il gruppo dovrebbe costituirsi a breve anche alla Camera, ma resta aperta la questione dei numeri. I dieci senatori europeisti non bastano infatti a modificare gli equilibri. E allora le porte del dialogo con Italia Viva restano aperte. Il nostro gruppo, che è un gruppo di centristi cristianamente, applicherà le lezioni del Vangelo, quella di San Matteo, quindi il discorso della montagna, di porgere l'altra guancia nel bene del paese. Dialogo aperto, riberisce anche Italia Viva, nessuna preclusione sui nomi, ma serve una svolta sui contenuti per affrontare la crisi economica e sanitaria. Dobbiamo affrontare i temi importanti. Non abbiamo veti sui nomi, siamo disponibili al dialogo. Quindi la maggioranza insiste su Conte, voi ci stareste? Se ci troviamo sul patto di legislatura abbiamo sempre detto di sì.